A mie spalle i dati delle prime due sezioni scrutinate, lo spoglio sarà molto lento anche perché verranno forniti i dati aggregati, quindi non... Eccoli qui, intanto vedete che è in testa Cristian Solinas, è uscita però adesso la notizia che nel più piccolo comune della Sardegna in realtà è avanti Zedda, ma è appunto il più piccolo comune, sono veramente dei dati che arrivano con il contatto.